eccoci e bentornati sul mio canale sto lanciando call of duty modern warfare remastered perché ieri sera c'è stato un aggiornamento delle playlist o meglio proprio della modalità del weekend come spesso accade nel titolo della raven software se vi siete persi il video di oggi delle ore 13 vi ho riportato tutti i dettagli per quanto riguarda i cambiamenti che ci sono stati con la paccia interna di ieri sera andiamo all'interno del multigiocatore e vediamo che cosa è successo vi dico subito che è stata introdotta una nuova modalità annunciata dalla stessa raven software tramite il profilo twitter di emos oggi modalità che potremo giocare in questo weekend da ieri 3 febbraio alle ore 19 fino a lunedì 6 febbraio alla stessa ora allora andiamo subito in trovo una partita e andiamo in guerra del weekend eccola qui danni e salute perché è una modalità molto interessante di cui bisognava fare un video perché è una modalità dove praticamente ci sono delle restrizioni per quanto riguarda il juggernaut e il potere d'arresto come potremo vedere il juggernaut e il potere d'arresto sono limitati e si tratta di un death match a squadre normali quindi non si potranno utilizzare questi perche saranno praticamente limitati quindi molto particolare perché va quasi a rendere il gioco uguale per tutti senza appunto due perche molto importanti che si utilizzano tantissimo all'interno delle partite multiplayer fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato questa modalità che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale